Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la Ferrari Formula 1 312 T4 di Gilles Villeneuve del 1979, edizione Centauri in scala 1 a 8, uscita numero 39 delle 110 previste, necessarie per il completamento di questa collezione storica. Ringrazio volutamente e doverosamente tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano e un abbraccio sentito ai miei abbonati. Grazie di cuore perché continuate, parecchi di voi, usiamo questo termine parecchi, ma alcuni di voi continuano da diversi mesi ad aiutarmi sottoscrivendo l'abbonamento. Grazie davvero, lo apprezzo con tutto il cuore ragazzi, veramente. A tutti gli altri dico sempre che ne abbiano piacere, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Se date un'occhiata alla playlist potrete trovare altri modelli e non soltanto di auto. Infine, qualora ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente, grazie. Riceveremo anche il treno, quindi tutte e quattro, di gomme per la pioggia. Se fossimo inglesi, ma non lo siamo, diremmo rain, pioggia. Nella prossima uscita tutti i componenti necessari per la costruzione del cerchio della seconda ruota anteriore, che io ho già tutto fino al numero 41. Penso di essere arrivato, e anche voi, fino al 41. Ho fatto tutti i video, li pubblicherò piano piano. L'importante è che mi sono messo di nuovo in pista. Mi è rimasta adesso la Lancia Delta, perché mi manca ancora il numero 12, ma tutti i numeri a seguire, la Martini Racing di Miki Biasion e Tiziano Siviero, che ha vinto il rally di Monte Carlo nel 1984, ho tutto, ok? Torniamo ai componenti. i cilindri maestro, la piastra e i tubi dei freni. Ecco qui, piastra in metallo, questa qua, poi cilindro maestro centrale, questo, poi abbiamo questi, o meglio, questi, sì, sono i cilindri maestro laterali, sono identici, ragazzi, ricordatevi che nelle collezioni, quando vedete un solo simbolo, una sola lettera o numero, per due o più pezzi, vuol dire che potete usare quel pezzo da qualsiasi parte, uno o l'altro, dove vi viene chiesto, chiaramente, di andarlo a montare. Poi abbiamo questi due tubi del circuito dei freni, sono belli, sono tubi in realtà che vengono messi per l'elettricità, quando non deve scaldare, se non sbaglio, il tubo, comunque un tubo per elettricità, questo. Sì, sono quelli che vengono messi anche, ad esempio, nelle piastre per i capelli, nei phon. Comunque, allora, prima cosa che vado a fare, c'è anche una serie di viti D, che però qui non ci serviranno, quindi le conserviamo. Se volete, va bene che c'è riferimento, ma scrivetevi anche il numero dell'uscita, così quando, come nel fascicolo precedente, vi hanno chiesto le viti B per montare il telaietto, questo, che erano uscite nell'uscita 33, le trovate subito. Allora, vado a farmi un po' di colla, userò questa plastica dove erano all'interno i pezzi, questo è un bicomponente epossilico, voi usate quella che avete. Io non uso l'Attac, che ho spiegato diverse volte perché, ma voi fate quello che ovviamente ritenete giusto per il vostro modello. Mentre invece per la gomma ve lo sconsiglio categoricamente perché ve la vetrifica, cristallizza e poi si rompe. Allora, nel momento in cui vado a mescolarlo, non ho neanche forse 5 minuti di tempo, perché quando inizierà a filare, che farà il filo quando tiro su così, la colla di fatto è inservibile. Ecco qui. Allora, io direi che prima vado a mettermi i tubi, ho visto che da una parte entrano almeno nei miei e dall'altra invece non entrano. Io adesso non sono andato a creare il foro anche dall'altra parte, perché? Perché qualora ce ne fosse il bisogno e poi successivamente andrò a farlo. Allora, qua entra, vedete qui fa fatica, ma secondo me se spingo entra lo stesso. Però, ripeto, se dall'altra parte avrò un altro perno, andrò a creare il foro. Se invece sarà solo da inserire, ad esempio, dentro un foro così, più piccolo, ovviamente, passante, basta, come abbiamo fatto qui per il tubo, vedete qui, questo in silicone, e allora non serve che io vado ad allargare il foro. Allora, andiamo. La parte che è entrata è questa, vado a metterlo nel primo perno, non sul perno, ma nel tubo, vi ricordate? Perché il perno, entrando, spingerà il collante dentro. Se invece lo metto sul perno, cosa fa? Non si vince niente, eh? Se lo mettevo sul perno, quando andavo a fare questo inserimento, tutta la colla veniva trascinata giù e andava in fondo e si vedeva il collarino. Uno. E due. Non piegate troppo questi tubi perché si danneggiano e poi rimangono piegati, eh? Evitate di farlo. Ok? Sono appoggiato sul cubo box perché sono abbastanza distante io quando faccio questi lavori. Siccome ho anche 58 anni e creo bigiotteria da oltre 12 anni, trovate qualcosa su Instagram, sempre come michele.armonica, troverete uno sfondo porpora viola con la palazzina di caccia di Stupinigi e lì ci saranno 500-600 articoli che faccio io e anche non che rigenero e poi vendo. Allora, adesso prendo la piastra, eccola qui, piastra di supporto, metto prima quello centrale, altrimenti poi faccio fatica a metterlo. così è corretto, invece, certo. Se vado a sbagliare questo inserimento, ragazzi, cancellatevi subito. Beh, ma qualche cavanata la faccio anche io, eh? Che vi credete? Ma io non taglio mica nulla, eh? Ci rido sopra, l'importante è che me ne sia corto, eh? Sono sviste poi, eh? ok, quindi questo lo metto qui e perché questi due perni ne avrei incollati comunque, ma entrano abbastanza facilmente, quindi ecco, io non mi fiderei a lasciarli così soltanto inseriti senza l'incollaggio. Se fossi voi, ecco. Perfetto. Così. e così. Vedete, questo entra veramente troppo facilmente, a tal punto che quando starà per indurirsi la colla, vedete che tende a staccarsi solo col peso del tubo, andrò a tenerlo schiacciato. facciamo così, ho appoggiato i tubi qua sopra, poi lo vado a controllare dopo, però, in realtà, però io mi devo anche andare a incollare quest'altro, vi ricordate? In realtà, in sintesi ormai è ben finito il montaggio, vado a incollarmi però questo che era entrato facilmente, andiamo a vedere qual è, eccolo qui, sono ricordato, ecco qui, così, tanto l'inserimento è univoco perché c'è la mezzaluna, non ci si può sbagliare, perfetto, così. Ecco, questo è a posto, guardate come esce, solo perché, vi faccio vedere, queste sono cose a cui bisogna fare attenzione quando si montano. Quando il foro è troppo preciso, voi, quando andate a mettere il collante, fa da guarnizione, catturate dell'aria all'interno che quando andate a fare così comprimete e le torna indietro, vedete? Per fare questo dovete continuare oppure mettete semplicemente un elastico, un elastico che gira da questo braccio a questo braccio, ovviamente un elastico appena appena che sia teso, perché se lo mettete troppo piegate i due bracci qui e poi lo rompete, è ovvio, no? ecco qui, vediamo il collante come si sta comportando, vedete? Sta già filando, guardate, quando inizia già a filare, ancora così potrei usarlo, se avessi qualcosa da incollare, però quando inizia tra meno di un minuto, inizierà proprio a filare di più, non dovete più usarlo, perché? Perché lui è nella fase dell'indurimento, quello più diciamo deciso, se voi andate a rompere quella fase lì, poi potrebbe rimanervi gommoso e non indurirvi più, eh? Quindi attenzione, non lo so, adesso io non sono un tecnico di queste cose, è come se spezzasse delle molecole che poi non si uniscono più e non riescono più ad indurire come dovrebbero, ok? Bene, il video termina qui, questo vedete tende a uscire, questo no, questo anche no, ma questo un po' sì, qui invece che andava su e giù come siamo messi, questo va bene così, perfetto. Io ragazzi vi ringrazio del vostro preziosissimo tempo, un saluto, un abbraccio a voi, un saluto a tutti i vostri cari più cari, ci vediamo al prossimo video, grazie a tutti sempre di seguirmi e se avete piacere condividete i miei video nei gruppi dedicati, grazie a tutti ragazzi. Ah, dimenticavo, ci sono anche gli abbonamenti, quelli proprio da amico, eh? Amico, sostenitore amico. Ciao a tutti ragazzi.